È solo una grande emozione, immagino. Ti chiedo di aprire la pergamena. Credo che sia lì avanti ancora sul percorso che devi finire e di leggere quello che c'è scritto. Quello è il tesoro e leggi cosa contiene. Ciao fratellone. Ciao fratellone. La nostra vita è stata segnata da partenze e ritorni. Da distanza e assenze. Tutto è cominciato con la mia scelta coraggiosa. A soli 19 anni di lasciare Cuba il mio paese, la mia famiglia, senza sapere se e quando. Mauriz, girati. Guarda il mare. 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 Guarda il mare.